Ben trovati a voi tutti ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni, abbiamo il piacere di avere con noi il Presidente di Uncem Veneto, Ennio Vigne, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Grazie a voi per l'invito. Grazie Presidente del Tempo che ci dedica per fare una panoramica quindi sull'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti e Enti Montani per quanto riguarda il territorio veneto. Farei proprio una fotografia di questa realtà? Intanto Uncem è un'associazione a livello nazionale e l'Anci dei Comuni Montani è rappresentata in tutte le regioni italiane, perché noi a volte dimentichiamo che le montagne italiane sono tutto l'arco alpino ma anche tutto l'arco appenninico e le montagne della Sardegna e della Sicilia. A poi le emanazioni regionali, io sono il Presidente, nel Veneto ci sono oltre 160 comuni montani, si parte dalla Lessinia, dal Baldo Lessinia e si arriva attraverso la provincia di Vicenza e Titreviso e tutta la provincia di Belluno a coprire questo territorio del Veneto. È un territorio non tantissimo popolato ma determinante nelle dinamiche della regione Veneto e quindi Uncem fa l'associazione di categoria nei confronti della regione del Veneto nella costruzione delle norme ma a livello nazionale ancora di più perché nei provvedimenti che vengono costruiti ci sia la giusta attenzione alle dinamiche della montagna. Ecco questa è un po' la mission diciamo e addentrandoci ovviamente nei temi sulla montagna dobbiamo ricordare per esempio che con uno sguardo sempre allargato il 2022 è proprio l'anno internazionale per lo sviluppo sostenibile della montagna. Sì, tutti hanno capito che senza una giusta attenzione alla montagna il territorio non può crescere. A livello nazionale si sta lavorando finalmente sulla nuova legge della montagna, il Uncem rappresentato a quel tavolo sta cercando di portare avanti delle iniziative concrete, la preoccupazione è quella che ormai siamo nella lunga discesa verso la fine della legislatura perché comunque la barriera della primavera del 2023 farà sì che questo Parlamento scada, quindi la preoccupazione è che questo provvedimento in realtà non si chiuda. L'importante però è lavorare, costruire comunque il testo e i contenuti in modo che eventualmente vada nella prossima legislatura a conclusione. E queste sono tante le attese comunque anche in particolare in modo della provincia di Belluno. Assolutamente sì, noi sappiamo che la provincia di Belluno è una delle tre interamente montane, ha questo riconoscimento a livello nazionale però con pochi contenuti. Noi abbiamo bisogno che si traduca dal punto di vista normativo, dal punto di vista economico in maniera diversa. Noi siamo orfani di un ente provincia che in un territorio come il nostro è assolutamente indispensabile. La costruzione del modello comuni, unioni montane e provincia è strategico nel nostro territorio. In altri territori le province sono meno importanti. Quando c'è stata la riforma delle province nella pianura si sentiva meno la necessità della provincia perché lì è molto più forte il ruolo delle prefetture. Nel nostro territorio dove si ragiona per valli il momento della provincia è un momento di incontro. Quindi abbiamo bisogno di una provincia assolutamente forte. Un territorio che soffre e lo sappiamo il tema dello spopolamento, il tema della denatalità, insomma un territorio che fatica comunque a tante criticità da dover affrontare. Siamo arrivati alla nuova fase se negli anni passati spopolavano i comuni delle terre alte e la popolazione si trasferiva nel fondo valle, adesso siamo sul livello in cui tutto il territorio si sta spopolando. I dati dello scorso anno dicono che solamente tre comuni hanno avuto una leggerissima crescita. Abbiamo comuni di 2.500 abitanti che stanno perdendo 100 abitanti all'anno. Quindi il rischio è quello di arrivare a un punto di non ritorno perché già oggi non troviamo manodopera e quindi il rischio è quello che determinati servizi, al di là del problema dei costi, non possano essere gestiti sul territorio. Quindi le stesse aziende fanno fatica a trovare personale, gli artigiani, i commercianti, vediamo che siamo di fronte a una stagione turistica in cui molti non andranno ad aprire perché non trovano il personale. Questo è legato a tutta una serie di aspetti a livello nazionale. Quindi o si interviene su questo rischiamo di essere un territorio che è molto bello e in cui gli abitanti non riescono più a vivere. A prosperare. Sicuramente una possibilità comunque per il contesto paese è quella rappresentata dal piano nazionale di ripresa e di resilienza. Ma su questo Uncem ha alcune titubanze. Assolutamente sì, è un'occasione importantissima a di là del fatto che adesso vanno ritarati alla luce di quella che è la guerra in corso in Europa. Sicuramente non c'è la giusta attenzione per i comuni di montagna. Il rischio è che i bandi PNR non trovino, non diano soddisfazione ai piccoli comuni di montagna. Vanno ritarati perché le caratteristiche, le necessità pratiche dei comuni piccoli di montagna sono diverse da quelle di pianura. A volte ci sono cose anche banali che vengono sottovalutate. A livello nazionale bisogna capire che lavorare in montagna, faccio un chilometro di strada, faccio un pezzo di acquedotto, ha costi maggiori di realizzazione ma soprattutto poi ha costi di manutenzione assolutamente diversi. Abbiamo bisogno di aiuto sulle spese correnti, non solamente sulle spese di investimento. Perché se anche ci arrivano i soldi per mettere a posto una scuola, se poi non ho più i soldi per pagare le bollette, il meccanismo non funziona. Questo è il meccanismo che dobbiamo far capire a livello nazionale. Vanno ricorretti proprio perché quella che è una grossa mole di risorse economiche, che sappiamo però che per la quasi totalità sono prestiti, i nostri figli e i nipoti dovranno restituirli. Abbiamo quindi la necessità di spenderli bene. Siamo in questo momento tutti un po' drogati, asciumbando assolutamente dobbiamo cercare di fare domanda. È un prestito e quindi i soldi prestati vanno gestiti in maniera ancora maggiore. Quindi vi deve essere una particolare attenzione, ma come sta cercando di far sentire la propria voce, quindi per portare le proprie istanze? Allora, Uncern nazionale partecipa chiaramente alle audizioni, alle commissioni parlamentari, partecipa ai tavoli, dicevo prima il tavolo della legge della montagna, e ha una rete di collaborazioni che nasce dai territori per portare supporti che non sono a livello astratto, ma a livello molto concreto. Quando Uncern si siede ai tavoli nazionali porta delle proposte che sono tarate sulle esigenze. È quello che poi a livelli diversi Uncern Veneto fa con la regione del Veneto, a cui noi partecipiamo, a tutti i tavoli regionali di programmazione e quindi le norme vengono costruite con la giusta attenzione. Logicamente è più facile a livello Veneto, perché c'è un rapporto anche di vicinanza, di collaborazione, una rappresentanza territoriale che fa da cerniera, a livello nazionale per le dinamiche che ci sono, ma soprattutto per l'altissimo livello di burocrazia di quello che è il centralismo nazionale. E questo è il dramma italiano, la burocrazia comunque. Il dramma è quello, la politica incide meno a livello nazionale, incide tantissimo la burocrazia, per fortuna a livello regionale la politica, nel senso buono della politica, incide in maniera forte e quindi fa tradurre i provvedimenti in base a quelle che sono le vere istanze del territorio. Senta Presidente, fra le progettualità innovative o comunque nuove di Uncem, vi è quella delle green communities? Sì, allora, questo aspetto è un aspetto che può essere veramente innovativo per i territori montani. Noi abbiamo delle esperienze concrete già partite, soprattutto in Piemonte, noi abbiamo un Uncem, Piemonte, molto radicato e molto presente in una realtà dove sono tantissimi comuni, ma tantissimi comuni di misure ridottissime, anche sotto i cento abitanti ce ne sono moltissimi, è un'opportunità per il territorio. Allora stiamo cercando a livello nazionale, abbiamo passato l'informazione spiegando come funziona questo meccanismo, a livello locale, per esempio in provincia di Belluno, questo passaggio lo facciamo in stretta collaborazione con il Consorzio BIM, su questo sta ragionando anche il Parco Nazionale, in modo di poter tradurre questa positività nei nostri territori. Cioè delle comunità, ci spieghi meglio, delle comunità che comunque mirano ad avere sempre un sistema più sostenibile, più… Più sostenibile e un sistema di risparmio anche di costi, che però non si deve solo tradurre in una riduzione della bolletta per la famiglia, ma che può, e l'esempio è quello che è stato fatto in Piemonte, dire io risparmio queste risorse economiche gestendo con un sistema misto, in un sistema migliore quello che è la produzione elettrica, il consumo elettrico, perché ci sono i doppi aspetti, devo produrre meglio in maniera sostenibile, ma devo anche ottimizzare quello che è il sistema dei consumi, molto spesso noi nelle nostre abitudini gestiamo male quella che è la pratica di ogni giorno, di giorno noi importiamo energia dall'estero, di sera la esportiamo, cioè spiegare ai cittadini che determinate attività accendo la lavatrice di sera invece che di mattina, non è una banalità, si traduce in un risparmio per il sistema paese, ma l'esperienza che è stata fatta delle prime green community è quella di dire il risparmio economico che ho lo traduco in welfare, in sostenibilità, in servizi sociali, perché alla fine questo fa la differenza, sia importante che alla famiglia rimanga una risorsa economica in più, ma è altrettanto importante che io garantisca a queste famiglie la possibilità di rimanere nel territorio magari potenziando i servizi socioassistenziali, quindi quello che stiamo cercando di fare anche nel nostro territorio sta partendo anche in provincia di Verona collegato alle unioni montane ed in collaborazione anche con la provincia di Trento confinante, un'iniziativa sulle green community, perché abbiamo bisogno di qualificarle dal punto di vista dei contenuti, non è solo risparmio energetico o risparmio economico, è un aspetto che può avere ricadute sociali importanti, dobbiamo spiegarlo per bene, poi spiegarlo anche i tecnici, perché i meccanismi oggi di costruzione non entrano i tecnicismi, sono molto stretti. Nel giro di qualche settimana ci sarà proprio in provincia di Belluno un primo incontro pubblico con le amministrazioni locali, perché è necessario un intervento di coordinamento, ma anche qualche iniziativa pilota, per evitare di sprecare tutte le energie che poi non si concretizzano. Ha maggior ragione anche adesso in questo particolare momento storico? Assolutamente sì, la crisi energetica ci ha fatto capire delle cose, forse a livello centrale, che forse erano banali da capire, diversificare gli approvvigionamenti, forse era opportuno farlo già da prima. Certo, senta Vigne, lavora e portare adesso sui grandi temi che comunque riguardano tutta la montagna Veneta, ma in special modo ovviamente la provincia di Belluno, le opportunità anche, guardando avanti ad un appuntamento che deve venire, però non è ormai più così distante. Quello del 2026, ovviamente le Olimpiadi. Le ricadute anche sul nostro contesto, quindi? Allora, le Olimpiadi ormai sono domani, perché dire che mancano quattro anni su alcune partite probabilmente siamo già in grosso ritardo. Io sono convinto che possono essere una grossissima opportunità, ovviamente per la provincia di Belluno, ma per tutto il territorio Veneto. Noi dobbiamo saperli gestire in maniera attenta, quindi che gli investimenti siano finalizzati non solo al momento delle attività, ma che sia succeda quello che è successo nel 1956 con Cortina. Cortina poi per lustri ha portato turismo, ha portato visibilità a un territorio. Noi abbiamo un territorio montano che è assolutamente appetibile per un turismo non di massa, un turismo attento, dobbiamo farlo conoscere. Noi a volte siamo invidiosi dei nostri vicini delle province autonome, ma che banalizziamo il nostro territorio, quando noi possiamo veramente promuoverlo, utilizzarlo in maniera importante. Abbiamo casi in cui l'iniziativa del privato, cioè in un comune a Valbelluna hanno costruito un bed and breakfast, hanno un collegamento con un'agenzia finlandese, loro stanno lavorando tutta l'estate con questi turisti che arrivano a Finlandia, soggiornano, vanno nei vari territori, proprio questi vanno molto spesso in Valle del Miss. Quindi vuol dire che il nostro territorio, anche per gli stranieri, è molto bello, dobbiamo esserne consapevoli e avere quell'approccio imprenditoriale che non tutte le zone della nostra provincia hanno. Quindi a questo punto di vista Olimpia di 26, grande opportunità, dobbiamo crederci, dobbiamo sicuramente capire che è un investimento per le nuove generazioni. E quindi ovviamente poi tutta la partita comunque collegata sul tema delle infrastrutture, non solo ovviamente infrastrutture fisiche, ma infrastrutture immateriali, si ricollega al discorso che faceva prima comunque dei servizi. Quando mai avremmo avuto un'opportunità come territorio della provincia di Belluno di avere investimenti economici sulla viabilità come quelli che sono in corso? Dico in corso perché sicuramente il finanziamento c'è, le progettazioni ci sono, la preoccupazione è quella che per il 26 non si è conclusa, ma anche dal punto di vista informatico. Noi sappiamo che le distanze oggi vengono superate attraverso questi nuovi strumenti che ci sono. La pandemia ci ha fatto vedere come si può gestire anche da un territorio periferico come il nostro determinate dinamiche, però gli strumenti ci devono essere, se no non abbiamo competitività delle nostre aziende e diventa difficile dire venite a lavorare in provincia di Belluno perché comunque uno che lavora con New York lo può fare da Belluno come lo può fare da Milano. Su questo dobbiamo forse cambiare approccio noi come montanari, abbiamo bisogno di capire che le opportunità ci sono anche nel nostro territorio, abbiamo bisogno di maggiori attenzioni normative e anche economiche, però spesso soprattutto normative. Le norme devono essere diverse nei territori di montagna. Senta, un'ultima battuta Presidente, il mese di maggio ricorre anche la festa dell'Europa, il 9 maggio la giornata specifica, anche in questo caso l'attenzione che Uncem dedica a tutto il mondo dell'Unione Europea, delle politiche che possono arrivare per lo sviluppo del territorio, qual è? Sicuramente le linee di indirizzo europee sono quelle che sono indispensabili, noi siamo, l'Europa ha un territorio montano e agricolo elevatissimo, in maniera con attenzioni che sono chiaramente diverse nei paesi più avanti dal punto di vista economico rispetto ad altri territori, ma nel confronto con l'Europa noi possiamo solamente acquisire un ulteriore contributo di conoscenza e quindi migliorare quegli aspetti. Alcuni diventano impositivi, sappiamo che le norme europee poi hanno le ricadute nei nostri territori, quindi dobbiamo saperle gestire e capire come, senza un territorio montano protetto e vissuto non ci può essere anche una pianura che cresce, pensiamo solamente al dissesto idrogeologico, pensiamo alla gestione dell'acqua, sia un momento di assoluta criticità per quanto riguarda le risorse idriche, però l'acqua parte dalla montagna, quindi abbiamo bisogno di interventi che per esempio i territori montani chiedono a tantissimo tempo. Oggi finalmente la pianura, nel momento in cui i consorzzi di riqui non hanno più risorse idriche da utilizzare, comincia a capire che dobbiamo reggimentare, utilizzare, i soldi spesi in montagna sono spesi in funzione di tutto il territorio, soprattutto nella nostra regione. Bene Presidente, allora io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, ovviamente le auguro buon lavoro. Grazie anche a voi. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci.